Scoppia a Olbia in tutta la Gallura l'emergenza relativa agli immobili inutilizzati o abbandonati. Si susseguono gli interventi di emergenza, anche notturni da parte dei Vigili del Fuoco, per mettere in sicurezza gli edifici, cantieri chiusi da tempo, strutture spesso pignorate e inutilizzate, con diffide della polizia locale e sequestri dei carabinieri del Noe. Si parla di immobili in condizioni di completa inagibilità, in alcuni casi con i ponteggi sulle facciate dove da mesi non c'è traccia di attività, riflesso del caos generato dal super bonus. L'elenco degli immobili in disuso a Olbia dopo fallimenti o pignoramenti è molto lungo, uno dei casi più noti è quello dell'hotel Riobados, l'enorme albergo mai ultimato a Pittulongu. Si tratta di una struttura di 15.000 metri quadri, 200 stanze, che è di nuovo fonte di problemi ambientali e di sicurezza pubblica. Nonostante sia stato recintato diverse volte, continua ad essere utilizzato anche come discarica. Nel 2017 il Tar di Cagliari aveva dato ragione alla Riobados Hotel SRL che aveva ottenuto l'annullamento delle ingiunzioni di pagamento arrivata da parte del Comune per la somma di 322.000 euro, quale quota residua per oneri concessori e quota di costo di costruzione, nonché la cartella di pagamento emessa da Equitalia Sardegna nei confronti della stessa Riobados SRL per la medesima somma più circa 15.000 euro per oneri di riscossione. Il Comune di Olbia nel 2003 aveva approvato il progetto presentato dalla Riobados per la realizzazione in deroga dell'albergo che si sviluppava su due fabbricati e tre piani fuori terra, costituito da 149 camere e circa 295 posti letto. Il Riobados tuttavia rappresenta un po' la punta dell'iceberg. Il personale della polizia locale di Olbia, coordinato dal comandante Giovanni Mannoni, sta effettuando controlli sugli edifici e su tutti i cantieri.